che c'è amore te ne vai sono nervosa con te perché sono nervosa con te perché vai via perché potevi pranzare qua dai lo sai che poi si fanno a sposare ciao a te ciao amore sicuramente il grande fratello ha riacceso l'amore tra Mirko Brunetti e Perla Vadiero infatti proprio nel reality show i due ragazzi sono riusciti ad affrontare i vecchi fantasmi e a superare ogni ostacolo anche se con qualche difficoltà di recente Mirko Brunetti sulle pagine di Coming Soon ha rilasciato una lunga intervista dicendo che quando ha avuto confronto con Perla nel tuburio ha tirato fuori tutto quello che in otto mesi non era riuscito a dire Mirko si è lasciato finalmente andare andare all'amore vero che in realtà ha provato solo con Perla Mirko è un ragazzo molto buono e sincero e ha raccontato che Perla per lui è sempre stata e sarà la persona più importante della sua vita Perla per lui è sempre stata tutto lei Perla le scorre nelle vene il loro è un amore autentico viscerale i due ragazzi non vogliono pensare al passato mai più ma concentrarsi solo sul presente e sul loro amore Grazie a tutti!